Costruire il futuro, recuperare il gap del passato e cercare di essere all'avanguardia, riportando la semplicità nelle istituzioni e nella vita politica. Questi alcuni dei punti chiave del programma di presidenza italiana del Parlamento europeo. L'Europa ha davanti una grande battaglia politica e può essere il luogo del futuro se ha il coraggio di mettersi in gioco adesso, ha detto Renzi. Nei vari passaggi del suo intervento rivolge poi un appello a Londra, vista la recente vittoria alle ultime elezioni degli euroscettici. Un'Europa senza regno unito e meno Europa è meno unita, sottolineando che in questa Smart Europe si dovrà essere anche al fianco di chi ha le idee politiche diverse. Renzi ha rimarcato poi il concetto di crescita come elemento fondamentale della politica economica, sia a livello europeo che italiano, essendo l'unica soluzione che permette all'Europa di avere un futuro. Quanto all'Italia, il suo ruolo sarà quello di contribuire e non di chiedere. Qui non c'è un'Italia che chiede scorciatoie. Qui c'è un'Italia che con coraggio e orgoglio offre la propria disponibilità per fare la propria parte. L'invito di questo semestre europeo non è semplicemente a ragionare di questioni economiche, su cui ve lo garantisco ci faremo sentire con tutta la nostra forza, con la forza di chi è un grande Paese e di chi contribuisce al bilancio dell'Unione in modo maggiore di quanto in cassa. Ma non è semplicemente nella moneta che abbiamo in tasca il nostro destino. Il nostro destino è nel riscoprirsi eredi, nell'avere il diritto di chiamarci eredi, nel prendere la grande tradizione dalla quale noi veniamo e dire che assicureremo un domani a questa tradizione. Lo dobbiamo ai nostri figli, lo dobbiamo a coloro i quali sono morti nel corso di secoli perché l'Europa fosse non soltanto un'espressione geografica ma un'espressione dell'anima. In bocca al lupo a tutti noi.